Ciao a tutti, oggi vi parlo della MD Deep Pen, ma ne approfitto anche per dare uno sguardo a tutta quella stationery, a quella ricchezza di accessori, carte, tacquini, inchiostri che caratterizzano il mondo orientale di questi o di questo o di questi produttori, visto che stiamo parlando di MD, Midori o Traveler Company. Comincio ovviamente dalla penna, non è una stilografica, come vi ho detto è una Deep Pen, una penna ad intinzione, come ne abbiamo viste recentemente, Pilot, Sailor, questa è una penna però un pochettino più pretenziosa, innanzitutto perché la cannuccia o fusto è realizzata con una resina che si chiama Mapuka, che è classificato, si legge nella scheda del prodotto, come un prodotto cartaceo, in quanto si tratta di una resina sintetica realizzata con polvere di carta. La sensazione è proprio quella di maneggiare qualcosa di un po' diverso, anche piacevole al tatto, una rigidità coniugata però ad una morbidezza, in poche parole una buona lavorazione. E la penna è solida, sì, sembra di aver fra le mani qualcosa anche di più consistente rispetto alla cannuccia o alla plastica, chiamiamola come vogliamo, che osserviamo alla vista. Il prezzo è di 20 euro, questo forse è il primo scoglio che mi viene in mente quando mi oriento verso l'acquisto, perché? Perché comunque è vero che c'è tanta sostanza, è vero che il pennino è un pennino realizzato molto bene, un pennino che al pari dell'Hero Sushi, per esempio, di Pilot, con un'intenzione vi consente di scrivere righe e righe prima di ricaricare. Quindi bene, bella anche la scorrevolezza. Però, dicevo, con 20 euro si agguantano delle penne stilografiche vere e proprie e che scrivono anche molto bene. Insomma, vale la pena pensarsi un po' se acquistarla per prendere lo strumento di scrittura oppure perché rientra in un quadro più generale di passione per carte, cartine, blocchetti di questo validissimo produttore. La sensazione di scrittura è buona, perché comunque si tratta di un prodotto che si capisce che non è la cannuccia con il pennino innestato e è morta là. È senza dubbio un buon materiale, è anche la sensazione tattile. Il pennino è molto arrotondato in punta, quindi ancora una volta abbiamo sì un pennino medio, ma un pennino medio alla giapponese, quindi con il tratto un pochettino più contenuto. Però, insomma, è bello scriverci. Il pennino è ricurvo in avanti ed anche questo, secondo me, aumenta quella sensazione di rigidità che tutto l'insieme della penna comunica. E poi comunque la riserva è ampia, quindi si scrive e si scrive parecchio. Tornando per un momento sul costo di questa penna di intinzione, non dimentichiamo che con 10 euro in più ci compriamo la penna stilografica, sempre dello stesso produttore. Quindi, insomma, è una cosa un po' da valutare. La penna, chiamiamola così, non è altro che una cannuccia ben realizzata che possiede l'attacco o l'innesto nella parte frontale per alloggiare un pennino come quello che vedete, che quello fornito in dotazione, ma al quale si può anche sostituire un pennino ad intinzione di quelli un pochettino più grandi, quelli meno stretti come curvatura. Io, ad esempio, ho montato questo Rose. La penna funziona benissimo anche con questo tipo di pennini. E' diversa dalla cannuccia, chi usa le cannucce in legno, o quelle oblique non ne parliamo, sentirà senz'altro qualcosa di diverso, ma per gli appassionati e gli utilizzatori di penne stilografiche, tutto sommato, è possibile che si sentano più a casa con questa penna che con una cannuccia in legno. Sulla mia scrivania oggi ci sono anche gli inchiostri della MD. Degli inchiostri, per i quali vi rimando ad una recensione un po' più approfondita che ho fatto in questi giorni, inchiostri che sono di buona qualità. Inchiostri anche, insomma, mi aspettavo che fosse la semplice e pura operazione di marketing, visto che ho tutto questo ambaradam per la scrittura, vabbè, faccio produrre anche degli inchiostri col mio nome, giusto per vendere anche quelli. In realtà, magari un po' meno questa tinta, l'arancione, ma senz'altro il grigio mi ha colpito, ha delle buone qualità anche nella formulazione. L'arancione è bello come colore, come pigmento, ancora una volta qualcosa di qualità, ma tutta la tavolozza degli inchiostri della MD è abbastanza originale, ci sono delle tinte che mi piacciono davvero parecchio. Anche se bisogna mettere in conto che il prezzo non è proprio quello di un Pelican 4001, sono 30 millilitri come il concorrente, ma il costo è parecchio più elevato. Li ho provati, così come la penna di intinzione, sul Message Letter Pad, un blocco di fogli per lettere e messaggi, ma li ho provati anche su questo set Notebook Lite in versione A7, senza rigatura o con rigatura, insomma a seconda di quello che ci piace, mettendo un po' alla prova le mie capacità, perché non amo i blocchetti piccoli, un po' perché mi piace scrivere ampio, mi piace spaziare, mi piace usare i caratteri e le grafie di vario tipo, e un po' perché comunque la spillatura non rende sempre agevole l'utilizzo di queste piccole agende, che però hanno la qualità della MD. Ed oltre al limite della spillatura, c'è anche il fatto che la rigatura è abbastanza stretta, lo spazio è risicato e quindi i pennini, quelli larghi, faticano un po' di più a trovare la loro espressione, perlomeno, insomma, nelle mie mani. Inoltre, d'accordo i pennini larghi, ma anche quelli con, soprattutto gli italici, soprattutto quelli un po' taglienti, faticano doppiamente perché, essendo la carta abbastanza curva, date le piccole dimensioni, non sempre ottengono la planarità necessaria per manifestare il pieno grado della loro misura, ma anche a volte proprio per spalmarlo in maniera omogenea, cioè proprio parallelamente, perché la carta è curva, quindi attacca da una parte, ma non dappertutto. Insomma, faccio un'eccezione, invece, per il Midori Grain, che è uno dei miei tacquini preferiti, forse il mio preferito. Intanto una misura un pochettino anomala, ma poi questa spirale, che consente effettivamente di poterlo utilizzare, tanto come blocchetto, ma anche come singoli fogli, una volta che si appoggia sul tavolo. Insomma, una comodità davvero unica. Poi, vabbè, bicolore, ve l'ho già presentato. E poi c'è questo. Questo è uno degli ultimi arrivati nella Traveller, nella collezione Traveller. Sto parlando di un blocco spiralato, si chiama infatti Spiral Ring Slim Paper Pocket. Allora, vi leggo quello che ci dice il produttore a proposito. L'ultima giunta alla linea Traveller's Company, composta da una gamma di formati adatti ai viaggi, con rilegatura a spirale, per garantire che il taccuino sia piatto. E questo è vero, è vero, ed è assolutamente pregevole. La copertura leggera include una resina per una maggiore durata. C'è anche questa copertina, che però, è vero, poi diventa anche meno gestibile di quello che è una volta acquistato, perché le pagine vanno inserite per salvaguardarle, vanno inserite perché, essendo delle tasche, non voglio perdere i documenti ogni volta che lo rovescio. E quindi l'operazione diventa un po' lenta e si finisce quasi più per stropicciare la carta e litigare per questo impiccio che per godersi invece il risultato finale. Però, quello che mi ha colpito di più è questo blocchetto, il Midori Message Letter Pad, blocco di fogli per lettere e messaggi, con una carta sviluppata dal 1960, rifinita con una trama davvero particolare, mi ricorda molto le carte fatte a mano. Non per niente, infatti, viene prodotto in un distretto che si chiama, spero di pronunciarlo bene, Echizen, che un po' corrisponde alla nostra pescia, dove ci sono cartiere, cartiere e cartiere, perché quello era il distretto che dava lavoro o dove trovavano comunque luogo tantissimi produttori di carta. La carta è di tipo vashi, una carta giapponese decorata, in particolare, per l'appunto, si tratta di una carta torinoco, con una sfrangiatura e una consistenza molto particolare. A me piace molto, mi ha ricordato anche, ve la faccio sentire, mi ha ricordato anche la carta Landuri Anji, che ho provato recentemente, anche se questa è una carta la cui superficie, ripeto, è molto ispirativa, perché sembra proprio una carta antica, o perlomeno prodotta con metodi antichi, una carta a mano. Però poi tutta la poesia viene un po' meno nel momento in cui il polpastrello inferiore, quindi col pollice sentiamo la trama superficiale, ma il polpastrello dell'indice scorre su una carta perfettamente liscia, e quindi non è affatto una carta fatta a mano, e qui cade un po' il palco, perché è vero che è una carta anche disegnata, si capisce che è una carta moderna, non viene spacciata per carta a mano, ci mancherebbe altro, però, insomma, ormai, visto che erano a metà strada, fatto 30 si poteva fare 31, toglie un po' di poesia questo aspetto. Però i disegni sono belli, sono disegni che riguardano quattro piante estive, ci dice il produttore, che crescono sul lungomare, sono così rilassanti da guardare sulla superficie dell'acqua, insomma, è un bel prodottino, questo è fuori dubbio, mancava quel poco per renderlo assolutamente originale. Come ci si scrive? E beh, insomma, come tutte le carte, quelle un po' particolari, non riescono a mettere d'accordo tutti, perché la finitura superficiale, ve l'ho detto, ricorda una carta a cotone, una carta quasi fatta a mano, e quindi tanta fibra esposta in superficie, i pennini più sottili, quelli più aguzzi, anche come alcuni che vedete utilizzo ad intinzione, potrebbero avere problemi da una parte, in senso assoluto, perché si impuntano, oppure problemi per una mano non troppo esperta. I pennini delle stilografiche, beh, ci scrivono bene, ovviamente tenendosi su una misura fine media. Perché? Perché quella sottile potrebbe ricadere nel punto A, e cioè di impuntarsi. Quella invece troppo larga deve fare conti con l'assorbimento di una fibra così esposta in superficie e quindi il tratto non riesce a contendere, il tratto sì, non risulta poi nella sua piena gradazione, a volte addirittura prosciugato dal fattore igroscopico della carta. Insomma, bisogna scegliere il pennino adatto. Il colore è l'altra questione, cioè è una carta comunque simile a tutte le carte in fibra di cotone, quindi non c'è lo splendore, la brillantezza dell'inchiostro, ma per contro abbiamo la capacità della carta di raccogliere il pigmento quando il pigmento dell'inchiostro sia di quelli buoni e allora lì vediamo effettivamente la differenza fra un inchiostro di qualità ed uno un po' meno attento a questo fattore, quindi dei colori saturi ma non brillanti o contrastati come un'altra superficie invece riesce a mettere in risalto. Grazie a tutti voi amici per aver seguito anche questo video l'appuntamento è ai prossimi e i miei saluti sono sempre molto inchiostrati per tutti. Grazie a tutti i miei saluti